Ciao ragazzi e benvenuti alla nuova avventura di pesca estrema dalla spiaggia. Quella di oggi è una pescata speciale ma renderla tale in questo caso non è una cattura che potrebbe soltanto che arricchirla, bensì una novità importantissima che rivoluzionerà definitivamente il nostro modo di pescare oggi e per le future pescate, dunque per i prossimi video. Oggi andremo a consacrare un nuovo stile di pesca fino all'Evicasting, ancora quasi del tutto ignoto qui in Italia, che cambierà radicalmente le sorti di queste e delle future pescate e che ci accompagnerà pressa poco in tutte le prossime pescate che faremo ai Vicasting. Beh cosa aspettate allora? Mettetevi comodi e preparatevi a godere di un video a prescindere da risultati in termini di catture che si prospetta essere più unico che raro. Prima di cominciare vi invito però come sempre a lasciare un like se i video vi piacciono, commentare e iscrivervi al canale. A voi non costa né fatica né soldi ma per me significa tanto, specie dopo aver deciso di divulgare in Italia una tecnica oserei dire sconosciuta come l'Evicasting che ancora mi rendo conto riscuotere troppo, troppo poco riscolto e troppo poco apprezzamento a rispetto delle emozioni inspiegabili che è capace di regalare. Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! che da oggi rivoluzionerà completamente le nostre battute di pesca. Avete già avuto un assaggio di cosa può riservare il portare esche intere quali calamari, seppi e totani dai 3, 4 fino ai 600 grammi a 150-200 metri d'arriva nell'ultimo episodio di Evigast in caccia all'Aquila. In quell'episodio e in altri video precedenti abbiamo sfruttato il kayak dell'amico Francesco per portare tali esche a tali distanze con un notevole dispegno tuttavia di tempo e di fatica. È arrivato adesso il momento di fare però un passo in avanti e di sfruttare al nostro vantaggio le moderne tecnologie andando a impiegare un drone che ottempera il medesimo ruolo con prestazioni di gran lunga e disfacenti, perfino con qualche funzione in più in meno della metà del tempo senza alcuni spegni di energia fisica. Oddio, ma che cavolo, madonna, madonna, oddio santo, appena calata. Questa è di Aguila. Aguila? Questa è di Aguila. Sta partendo, sta partendo. Che cavolo è? Che cavolo è? Federico? A sinistra va. Che cavolo è Federico? Non lo sto capendo che cavolo è perché ha un comportamento strano. Che cavolo è? Che cavolo è? Che cavolo è? E poi è pentacola, è pentacola, è pentacola, è pentacola, ma posso? Complimenti, complimenti, salvo, complimenti. Chi è, mi sono allontanato, mangi il tempo. Oh, guarda come ha boccato l'addello, vieni qua, guarda, avvicinati. Ma, guarda che è mangiata buita. Bocca? Sì, 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 sì. Alla perfezione, guarda. No, forse riusciamo a slammarlo già così, sai? Ci conserviamo l'esca, no? Eh, sì, no, l'esca è... Cos'è di venti quando l'abbiamo appena lanciata? E questo trigone era qua per noi. Perfetto. Eccolo qua. Eccolo qua. Ok ragazzi, prima cala col drone e arriva subito l'alato. C'è qualcosa di scantanoso, un bel trigone, niente di che, ma davvero divertente. La riportiamo a mare, dai. Bene, non ti fai il bagno. Noi stavamo parlando. Ma stavamo parlando a tutti. A parte il ciclino. Che abbiamo sentito? GarofIde! La riportiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh madonna, ci risiamo. Vai, 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 a posto. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Come avete visto dalle riprese, a tenermi compagnia in questa nuova avventura è Salvo Giù, se ospite ormai arcinoto di questo canale, per chi segue i video da un po' di tempo, insieme al quale abbiamo caldo due canne a testa con questo sistema. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. C'è, 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 c'è. Vai, vai, vai. Vai, vai che non trovi ciù. Madonna. Grongo, 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 grongo. Ciccatevi. Madonna. È arrivato il grongo. È arrivato il grongo. È arrivato il grongo. Questo sì che è un pescione. Così. Enorme, enorme. Mamma mia che cosaифì. Enorme. auguri salvo grazie grazie ma io ho paure che il trombo che il trombo è capace a bagliare la vede è un pesce di un bel po' di timo il trombo è un pesce di 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 un pesce oh dio dio madonna che cosa c'è qua sotto un pesce di 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 un pesce no no qua sotto no 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 qua sotto no ti prego no no è qua sotto il pesce è qua sotto ok ok ho usato la stessa tattica hai visto eccolo qua è lui è vero è mostruoso, è mostruoso, è mostruoso, è mostruoso allora ragazzi io penso che il video si possa chiudere qua non c'è conclusione di migliore e chiudere con un pesce in mano ma questo è un pesce? Salvo tu questo me lo chiami pesce? ma questo mi rende un mostro marino non è un pesce questo è ora che sta scivolando quindi ce l'hai tu è qualcosa di abominevole ragazzi l'abbiamo pesato alla meno peggio e l'ago della bilancia si è fermato intorno ai 13 kg è alto quanto me, non che io sia alto ma me passa quanto a Federico ah qui stiamo a un metro e cinquanta all'incirca un po' di meno è una foto duratoria vediamo, vediamo l'altra mano fa paura ragazzi il video si conclude qui primo test del drone di regata a buon fine è un'offerta veramente non ho parole, 13 kg ragazzi è pauroso, un pesce veramente da fare paura non... vabbè il po' conceso di sempia onestamente ragazzi ora come ora non vi vengono neanche le parole per inscenare una conclusione del video quindi queste conclusioni le lascio semplicemente alla chimpione di questo pesce alla prossima ragazzi alla prossima